eccomi qua ogni promessa e debito ben volentieri ciao tarotiste tarotista carluccio che hai diciamo così salvato l'onore dei maschi domenica madonna sono già passati due giorni per certi versi mi sembrano tanti mi sembrano molti di più per altri versi mi sembra che sia andati via un'ora fa allora eccomi qua sto registrando in incognito forse metodo migliore almeno per me che programmi giusti per smanettare un video su facebook privato dopodiché siccome ha un formato leggero ve lo giro su whatsapp perché altrimenti si dovessi fare un video normale e pesantissimo parliamo completiamo il nostro famoso discorso e parliamo del mondo ok e del matto ecco li avevamo lasciati fuori fuori classifica perché in un certo senso lo sono e perché sono fuori classifica il mondo e il matto ma sono fuori classifica perché sono delle esperienze di completezza rare diciamo così almeno nella vita quotidiana e nello stesso tempo per uno shift un giro di ruota qualcosa che permette di fare un cambio è difficile da reggere cioè cosa voglio dire difficile da reggere voglio dire che in realtà nel momento in cui noi siamo in questa dimensione siamo nella materia siamo sul pianeta terra siamo nel 3d quello che viene chiamato anche il 3d in un ambiente più o meno spiritualista difficilmente facciamo esperienze di una integrità di un'interezza di una complessità enormi globali dove dove mettiamo in un certo senso tutti i pezzi del puzzle al loro posto perché facciamo fatica reggerli le esperienze sovrannaturali per sovrannaturali non intendo sitiche o cose di questo tipo ma le esperienze al di là dell'ordinario per il nostro status sono toste sono come come immaginate appunto la famosa acqua che bolle a 100 gradi no o abbiamo portato la nostra consapevolezza nostra mente il nostro cuore nostra energia così avanti sempre che ci sia un meglio o peggio un avanti o indietro e allora siamo in grado di reggere vi ricordate le metafore ci sono delle metafore incredibili nel anche solo nella bibbia no pensate all'esperienza di lasciamo perdere per chi è credente ci crede come un miracolo per chi non è credente c'è comunque un messaggio fortissimo dietro per esempio l'annunciazione no cosa succede maria vede un angelo e rimane incinta lasciamo perdere che è destinato no secondo la religione cattolica ma è tratto l'angelo l'angelo della fecondazione dell'annunciazione gabriele che è legato non solo nella cabala ma in tutta l'angelologia guarda caso al al ventre alla gravidanza al tutto quello che ha a che fare con la seminare e far fiorire le cose e pensate a mose che incontra metatron che l'angelo di dio e insomma rimane un attimino offeso come direbbero aldo giovanni e giacomo per un bel po insomma prima di decidere se a scendere pensate a zaccaria che incontra un angelo e che rimane muto per nove mesi finché non nasce giovanni che il cugino di gesù il battista insomma e sono allegorie e sono metafore di di quanto incontrare con pienezza il mondo spirituale se non siamo pronti e meno mante cioè subiamo comunque degli shock ecco perché il mondo e il matto sono quasi di un'altra dimensione io ve lo faccio vedere il mondo dei Rider-Waite che non è tanto distante dal mondo dei Tarocchi di Marsiglia che c'è una somigliazza curiosamente sono al contrario adesso li vedete al contrario perché sono allo specchio ma anche contrario l'uno dell'altro vedete questo è il mazzo grande dei Rider-Waite che avete visto l'altro giorno e questi sono i Tarocchi di Marsiglia vedete che c'è una sorta di uovo cosmico con delle vesti che avvolgono questo giovane che sembra una donna a prima vista ma che in realtà è una sorta di androgino con questa vesta che è qualcosa che ha a che fare, insomma ricorda moltissimo il serpente no? cioè qualcosa che avvolge questo personaggio e vedete quattro bestie misteriose dentro questo quadretto ovale tipo le foto di dove si tengono dentro i parenti o gli amici o i ricordi e sono poi in realtà i quattro evangelisti che rappresentano poi i quattro punti cardinali del mondo e che rappresentano anche quattro elementi, quattro a che fare con la terra no? vi ricordate il famoso imperatore? vedete che l'esperienza che fa in un certo senso è una sorta di esperienza che ci ricorda appunto una foto cioè un'istantanea, un'apertura un click all'interno di una situazione che poi inevitabilmente non possiamo reggere cioè è un compimento un compimento, la fine, la realizzazione, l'ultimo tassello prima poi di iniziare qualcosa di nuovo nella quella che io chiamo la divinazione proprio per comodità che poi non è la divinazione come vi ho detto ma nella lettura il mondo rappresenta una realizzazione, un successo rappresenta anche l'arrivo nella città, cioè l'arrivo nel mondo e quindi in positivo la propria realizzazione una sorta di raggiungimento della propria mission per poi facilmente uscire dal gioco cioè che non significa raggiungo la mission muoio ma significa che però è un punto d'arrivo altissimo ma poi bisogna ricominciare perché nell'esistenza non c'è nulla che sia come dire definitivo il mondo è la possibilità di rendere qualcosa definitivo ma è un definitivo che io colgo per un attimo un po' come un'istantanea ripeto, nella divinazione è sicuramente una carta bellissima ha un lato d'ombra relativo che ha a che fare con il perdersi nel mondo siccome il mondo è il mondo appunto quindi il raggiungimento è un po' come il toccare la vasca cioè fare per poi ripartire tipo nelle gare di nuoto nel suo lato d'ombra ha a che fare con la possibilità di perdersi all'interno del mondo per cui per esempio quelli che hanno cercato Dio negli anni 70, 80 che poi sono finiti persi tra le strade di Kathmandu o di Bombay o che ne so di Rishikesh sono comunque poi dove andavano a cercare i guru o cose di questo tipo che poi si sono persi magari nelle esperienze paranormali o nelle droghe nella sperimentazione è una tipica esperienza non solo del diavolo ma anche del mondo ok perdersi nel mondo che per chiamiamolo così l'illuminato il risvegliato per Gesù per Buddha per Osho per Krishnamurti per chi volete è il confluire nel mondo nell'oceano del mondo con la propria personalità comunque per quello che si può capire è come una sorta di fiammella in mezzo al fuoco che mantiene che parte del fuoco ma che mantiene la sua unicità e quindi il mondo è una carta atipica che è un'altra di quelle carte misteriosamente che esce meno delle altre cioè non mi ricordo che tarologo anni fa fece questa specie di a un certo punto divenne l'intuizione di fare questa specie di statistica di quanto uscivano le carte si rese conto che c'erano delle carte che uscivano di meno e delle sequenze di carte il mondo è una di queste e ha un tale comunque impatto che vedere arrivare il mondo vedere uscire il mondo ci dà spesso l'idea di compiutezza di completezza già in automatico ecco vedete questi vedete che ha in mano le bacchette del mago in un certo senso ha in mano tutto quello che gli serve è avvolto e guardate come sembra quasi danzare è incredibile perché è la stessa cosa anche di qua al contrario molto interessante ed ecco che arriva il matto il matto è la carta zero per qualcuno è anche la 22 ci sono dei terologi che mettono il matto davanti al mago io trovo che in un certo senso metterlo davanti o metterlo in fondo non cambia niente dovete immaginare come se il matto fosse il mago di una nuova spira di una spirale più alta un po' di un livello del gioco più alto no? io spesso quando presentavo i miei seminari parlavo di dal mago al matto in effetti il matto è una sorta di realizzazione e il ma nello stesso tempo è un giro di manovella no? è un click tant'è vero che il matto ha a che fare anche nella divinazione con i colpi di scena con quelli che i francesi chiamerebbero i coup de théâtre no? con qualcosa che reverse cioè che a un certo punto come dire ribalta ecco rovescia quella che è la logica del gioco quindi una sorta di intervento anche divino pensate al al diluio universale anche in un certo senso è il matto pensate a alle rivelazioni alte è il matto ok? guardate quanto è bello questo matto il matto dei Rider-Waite è il più bello in assoluto considerato a parte questa veste da menestrello medievale tardo medievale con in saccoccia non si sa che ispirato dal sole e guardate con un passo guardate come non ha assolutamente è incosciente ma nel senso che non ha assolutamente nessuna paura e vive nella fiducia il prossimo passo potrebbe mandarlo nell'abisso ma lui non ha nessun timore e è aperto vi ricordate il magono dall'alto verso il basso qui non c'è dall'alto verso il basso c'è un'apertura come quando io allargo le braccia per abbracciare qualcuno e guardate questo cagnolino il cagnolino che è molto presente scusate non vi ho fatto vedere il mago prima adesso vi faccio vedere il matto dei Rider Waite guardate il matto dei Rider Waite aspettate che ho solo due mani è famosa perché nei molti matti molti matti ci sono c'è questo animale in alcuni è un gatto in altri è una specie di cane che vedete che tocca le natiche del matto e addirittura gli strappa anche in un certo senso la veste dalla natica e che rappresenta una sorta di impulso ad andare sempre avanti io trovo il matto invece dei Rider Waite ancora superiore dico una blasfemia per chi ama i Taracchi di Marsiglia perché il matto si disinteressa persino del cagnolino che invece festeggia con lui e che si fida di lui perché anche lui insomma è quasi sull'abisso ok che cos'è quindi nella divinazione del matto il matto della divinazione è un fulmine a cielo sereno l'intervento divino una comprensione fuori dagli schemi una passione prorompente qualcosa che arriva molto forte molto potente e in negativo tra virgolette nel lato d'ombra il matto rappresenta tutto quello che ha a che fare con la follia quindi guardate che in francese il matto e il fuoco hanno la stessa radice le fou e le feu è un gioco di parole quasi è chiaro che nel matto c'è una radice di qualcosa che è infuocato ma nello stesso tempo che può bruciare diciamo che il pazzo o lo scemo del villaggio sono potenzialmente vicini al matto ma il matto che dei terocchi realizzato che rappresenta il lato diciamo così integrato luminoso e saldo è chiaramente il maestro spirituale è chiaramente colui che si è risvegliato la figura del matto tra l'altro ricorda tantissimo anche dei personaggi fuori dagli schemi dello zen per chi conosce un po' il buddismo maestri anche molto vedete questa incoscienza a parte richiamare molto i fedeli d'amore o comunque tutti i movimenti dei trovatori medievali rinascimentali ricorda tanto anche l'incoscienza di tanti maestri orientali non solo ecco io spero di avervi fatto così che voi abbiate gradito vi adesso lavorerò sul video poi ve lo mando al più presto vi mando un bacio vi ricordo che nella chat a parte le persone con cui ho una relazione quotidiana amicale nella chat se avete voglia di farmi delle domande senza intasare la chat ovviamente se no diventa ma ho notato che siete tutti e siamo stati tutti molto dentro usiamo questo termine molto centrati molto presenti a se stessi molto equilibrati però se avete qualche perplessità poi troveremo il modo di vi spiegherò intorno al 27 di dicembre che cosa potreste fare e vi spiegherò anche la ritualità e il mito dei due San Giovanni che sono il 24 giugno che è la famosa notte e mezz'estate di Shakespeare i sogni una notte e mezz'estate e San Giovanni appunto evangelista il 27 e poi troveremo anche modo di incontrarci per fare questa specie di piccolo mini seminario magari in un pomeriggio sugli arcani minori va bene un bacio a tutte e a tutti un bacio a tutti e un bacio a Carluccio e un bacio a tutti